Qua la serata fra 15 giorni Vabbè Oh, quello quanto sarà? Sarà un chilometro, due chilometri Però come se trippono, eh? Madonna Vabbè Ognuno porta qualcosa Ah, vabbè, vabbè Vabbè Grazie Pure la... Oh, ma lo sai che... Lui lo dovrebbe sapere Perché ti chiede il serato organizzato? No, organizzato... Il serato sento saluto Non è la mia, riprendi No Grazie C'è questa... Oh... Grazie.